Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove come avete detto al titolo vi farò vedere questo nuovissimo glitch da fare in solo quindi prima cosa ragazzi dovrete avere l'ufficio ceo insomma vedrete i requisiti qua dopodiché dovrete andare su online opzioni e dovrete avere salata tesa chiusa e dovrete essere in mira manuale almeno questo qua è il mio consiglio funziona sia su ps4 sia su xbox poi vi servirà la base operativa piena di rh8 e l'auto che volete duplicare dentro il centro operativo mobile ovviamente ragazzi vi consiglio di avere la base operativa del gran senora desert perché il glitch li riesce al 100% se non ce l'avete tranquilli vi farò vedere come fare allora ragazzi per prima cosa dovrete andare qui alla sedia del ceo dovrete diventare ceo prima cosa almeno quello che vi consiglio io qui vi rallenterò il video perché è una nuova versione almeno capite tutto quanto bene non è facile da fare questa parte ragazzi perché insomma è un po' un casino io ci ho praticamente messo un'oretta buona quindi accedete al computer però poi ovviamente non lo dovrete rifare andate su accedi missione veicoli speciali avvia missione ragazzi andate su conferma e adesso ragazzi premete prima options e poi x su conferma però velocissimi ragazzi options e subito dopo conferma e vi uscirà questa schermata adesso andate su online andate su acquista carte prepagate shark appena vi da la possibilità di tornare indietro voi tornate indietro e premete l1 ed r1 lo rifate ragazzi se non ve lo fa la prima volta premete indietro l1 ed r1 e vi uscirà questo messa e quindi insomma potrete continuare quindi adesso ragazzi lo accettate appena lo accettate spammate quindi premete tantissime volte cerchio andate su avvia partita veloce e avviate una cosa a caso io vi consiglio serie di gare speciali se ce l'avete adesso ragazzi premete x per accedere andate su accedi andate su missione veicoli speciali andate su avvia missione e attendete ragazzi di sentire questo rumore qua che vi farò sentire se non capite qualcosa ragazzi entrate nel gruppo telegram e nel canale telegram per rimanere notificati dei video almeno oppure qualcuno ve lo rispiegherà comunque ragazzi se avete qualche dubbio cercate nei commenti se non vi riesce da questo passaggio in poi è inutile che ragazzi lo scrivete tantissime volte nei commenti perché ve lo dirò io nel commento bloccato in alto quando il glitch è pacciato o no so che non è facile per tutti però ragazzi purtroppo io vi porto tutti i glitch che ci stanno quindi certe volte sono facilissime certe volte sono meno facili diciamo quindi sentite bene il suono da sentire quindi appena sentite questo suono voi premete conferma ragazzi e adesso dovrete attendere che il vostro personaggio si alzi da solo dalla sedia e si risieda quando ve lo fa ragazzi voi premete freccia destra vedete adesso passo la mano appunto ai miei amici dei glitchers crew perché a me non mi ha registrato sta parte e quindi ragazzi ci ho bestemmiato troppo perché ci ho messo tantissimo comunque ragazzi appena vi si è alzato da solo vi si è riseduto voi premete freccia destra andate dalla segretaria sarete buggati avviate il telefono andate su partita veloce vi scomparirà il personaggio adesso ragazzi tenete premuto il tasto ps o il tasto xbox andate su audio e dispositivi nel menu rapido e premete spegni il dispositivo selezionate il dispositivo da spegnere e poi ragazzi lo ricollegate quindi basta ripremere il tasto ps adesso ragazzi vi ricomparirà il personaggio e ragazzi una volta che vi è ricomparso il personaggio capite che il glitch vi sta riuscendo se riuscite a passare attraverso le porte quindi una volta che avete fatto questa verifica andate sempre dalla segretaria e richiedete un buzzard e andate al bunker una volta arrivati al bunker andate sul centro operativo mobile e andate e richiedi veicolo personale quindi richiedete veicolo personale al suo interno vi ricordo ragazzi di duplicare o auto di bennies perché modificate ovviamente perché vi danno più soldi oppure le nuove auto dell'arena quella che danno di più sono la ISI classic ovvero questa qua modificata al massimo da tipo 1.7 milioni una roba del genere quindi veramente tazzissimo quindi una volta che l'avete presa ci entrate dentro appunto al bunker e ragazzi adesso la spostate un attimo lui non lo fa nel video perché a lui gli riesce sempre non so perché però io vi consiglio adesso di cambiarvi di stile una volta e tenere il caricamento giallo in basso a destra non è necessario ma io vi consiglio di farlo tanto non vi ruba nessun tempo quindi dopo che l'avete fatto andate su snack e cominciate a bere le pisswasser tenete premuto il pulsante con cui le bevete così le berrà più a lungo una volta che l'avrete bevuto e lui svenirà e adesso ragazzi spawnerete all'ospedale aprite il menucceo e richiedete il buzzard mi raccomando non veicoli personali e neanche veicoli cioè insomma anche veicoli dei civili ma ve lo sconsiglio quindi adesso ragazzi una volta arrivati nella base operativa se non avete la base operativa del Gran Senora Desert andate a rifornirvi di birre se ce l'avete ragazzi fate come faccio io quindi se non avete la base del Gran Senora Desert vi rifornite di birre e poi venite qua quindi una volta che siete venuti qua premete R2 l'auto si sposterà pochissimo quindi ragazzi premete R2 oppure non si sposterà per nulla comunque insomma l'importante è che vi faccia così l'auto e adesso ragazzi tutte quante le auto spariranno se vi lampeggiano ragazzi vi dovrete ubriacare fino alla morte esattamente come prima se invece ragazzi non vi lampeggiano perché avete la base del Gran Senora Desert andate dalla segretaria premete freccia destra rifornitevi di peacewasser ovviamente poi ovviamente e andate su Pegasus e comprate il buzzard cioè ovviamente vi dirigete adesso al bunker quindi se avete la base del Gran Senora Desert se non avete la base del Gran Senora Desert ragazzi ve lo ripeto un'altra volta dovrete prima comprare le birre dalla segretaria ubriacarvi e poi ragazzi spawnerete dopo insomma prima di ubriacarvi andate nella RH8 fate quel passaggio poi vi ubriacate insomma ragazzi spawnerete fuori e a quel punto chiamate un buzzard come prima dal dal menucceo vi dirigete al bunker e rifate il passaggio seguente se volete continuare con il glitch ragazzi prima fermatevi a un negozietto e insomma vi comprate le birre comunque ragazzi una volta arrivati nel bunker prendete l'auto la spostate un po' entrate da dietro nel com una volta entrati da dietro uscite dal lato quindi non uscite da dove siete entrati ma uscite da qua come sto facendo io se non vi fa entrare nel com entrate prima appunto nel camion poi scendete e vi esce il pallino blu comunque tranquilli non vi succederà mai quindi una volta che siete entrati da dietro e siete uscite dal lato salite sull'auto ed entrate adesso ragazzi nel centro operativo mobile quindi adesso quando ci entrerete noterete che appunto il centro operativo mobile vi dirà che è pieno quindi adesso l'originale si trova nella base operativa e questa qua è la coppia per continuare con il glitch risalite nell'auto la riportate al parcheggetto la spostate un attimo vi ricambiate di stile e ricominciate a bere le birre finchè non svenite una volta ragazzi che l'avete fatto potrete continuare appunto con gli stessi passaggi di prima senza rifare il passaggio del computer se ragazzi vi esce la minimappa vuol dire che vi siete sbaggati però spero non vi esca comunque vedete che il glitch è abbastanza decente da fare tranne per la parte iniziale comunque ragazzi spero che vi vi sia piaciuto se siete nuovamente iscriviti al canale e attivate la campanella delle notifiche ringrazio ancora gli amici dei The Glitchers Crew per la parte finale del video e noi ci vediamo al prossimo video